Si vede in tempio, poi si vede un portico lungo lì, finiva la città, il pededrego, poi dove sono legate era la città romana, si vedono colonne del foro, e poi è la piazza con la città, dove andavamo a dire la città, allora lì era la biblioteca cristiana, le hanno bruciato i città, ne hanno fatto il volantiero, Soll'arri, è all'arriente? È un'arriente?